La pubblica accusa ha chiesto il massimo, il massimo di quanto restava dopo la prescrizione di uno dei due reati per i quali erano già stati condannati in primo grado. Prosegue così il processo d'appello a Firenze per la morte di Martina Rossi, la ventenne genovese che perse la vita precipitando dal balcone di una tela di palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011, secondo l'accusa per sfuggire ad un tentativo di stupro. Adesso infatti la procura generale di Firenze ha chiesto tre anni di reclusione per i due imputati, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi di Castiglion-Fibocchi che si trovavano nella stanza 609 dell'hotel Sant'Anna assieme a Martina la notte in cui perse la vita. In primo grado i due ragazzi erano stati condannati a sei anni, tre per il tentato stupro e tre per la morte in conseguenza di altro delitto, ma in appello si giudica solamente il reato di tentata violenza sessuale di gruppo, essendo nel novembre scorso andato prescritto l'altro reato. L'inizio del processo in appello in un primo momento era previsto per settembre 2020, era stato poi anticipato su indicazione della presidenza della Corte d'Appello di Firenze per evitare che anche l'accusa della tentata violenza sessuale di gruppo vada in prescrizione, i termini infatti scadrebbero nel 2021. Il padre di Martina, Bruno Rossi, come sempre presente in aula, ha parlato di un'ingiustizia, il fatto che sia già andato prescritto metà processo per me è una profonda ingiustizia, quando uno fa del male e c'è una condanna bisognerebbe dire basta. Il processo con le discussioni delle parti civili e delle difese riprenderà il prossimo 17 febbraio, potrebbe già essere il giorno della sentenza.